sonissimo sono le 7 come si può vedere dalla mia faccia del 21 febbraio e ho preparato oggi una sorpresa per andrea e per il suo compleanno cioè ieri era il suo compleanno ma lavoravamo quindi lo festeggeremo oggi sa che tutte quelle cose che ha nella borsa non gli serviranno a nulla perché io gli ho preparato una lista di cose che non servono assolutamente a niente oggi buongiorno andiamo andando mattina su tutto un po' da roba sei sempre in ritardo sono le 8 e mezza siamo in ritardo cosa hai portato cose per il freddo cose per il caldo pigiama che non uso mai e dove andiamo oggi? siamo in tenuso potrebbe essere un po' ovunque e da nessuna parte giorno 11 siamo sempre più deperiti ci stiamo nutriendo di unghie e di briciole trovate sul tappetino c'era anche una banana è dura andare avanti lei inizia a mostrare i segni dell'isteria allora mi stai portando martina ormai abbiamo capito? a Ipiotro Village allora sei contento? quali sono le impressioni sulla sorpresa? ci sono un sacco di cani spero non sia un canile ti abbandoniamo qui sta facendo la cacca come ti racconti di questa esperienza? breve ma intensa avrei voluto fare qualche salto in più ha cagato tanto veramente tanto bravi cagnacci grazie a tutti Grazie a tutti